Hai mai realizzato una creazione esageratamente colorata? Reschimica ti sfida a provare nuance ed effetti che non hai mai preso in considerazione. A qualcuno capita di cambiare totalmente gusti sul proprio colore preferito. Un giorno il giallo è il colore che proprio non ti piace e qualche settimana dopo non puoi farne a meno. Dipingi il soggiorno di giallo, cambi le tende di giallo, ti vesti di giallo. O magari anche tu avrai esclamato no, il rosso è un colore troppo volgare e acceso per poi riscoprirne la sensualità e il calore. Svelaci qual è stato il colore o l'effetto che hai rivalutato e visita il sito reschimica.com per scoprire la nostra vastissima selezione di pigmenti. Buona creatività!